Ida Platano e Riccardo Guarnieri Sulla presenza della coppia nel reality di Canale 5, il cavaliere di uomini e donne ha preferito non sbilanciarsi Mentre il gossip di questi giorni racconta di una presunta rottura tra i due protagonisti del trono over dopo il programma, il calciatore che in passato è stato al centro di un triangolo amoroso con loro si mostra sempre più felice ed innamorato della sua Ursula Bernardo Sossio prende le distanze da Ida e Riccardo dopo gli scontri a UE e di la partecipazione di Ida e Riccardo a Temptation Island sta facendo molto discutere, nonostante sia stata mandata in onda solo una puntata della nuova edizione, sono tantissimi i commenti che sono arrivati alle coppie che quest'anno hanno deciso di mettersi alla prova nel reality di Canale 5 Guarnieri e la Platano, essendo gli unici volti già conosciuti dal pubblico per il loro passato a uomini e donne, sono stati tra i più bersagliati dai telespettatori, già durante il primo appuntamento, infatti, i piccioncini si sono mostrati molto gelosi l'uno dell'altro e soprattutto non troppo convinti di voler condividere il futuro insieme Qualche ora fa, complice un botta e risposta che ha avuto con un fan su Instagram, un protagonista del Trono Over che in passato ha avuto parecchio a che fare con la coppia appena citata, è stato spronato a dire la sua su quello che è stato trasmesso fino ad ora del programma Ma di Ida e Riccardo a Temptation Island cosa ne pensi? ha domandato qualcuno a Sosio Aruta sui social network Conoscendo i trascorsi litigiosi dei tre, in molti si aspettavano che il calciatore sparasse a zero su di loro, invece si è limitato a dire, no comment Probabilmente per non alimentare ulteriori gossi per rivalità con Guarnieri e la Platano, il cavaliere di Uedi ha preferito non sbilanciarsi in nessun senso nei loro confronti Quanto durerà questa pace? Uedi, Sosio felice con Ursula, Ida molto lontana da Riccardo dopo Temptation Island Anche se Sosio non ha voluto commentare quello che sta succedendo a Temptation Island tra Ida e Riccardo, la maggior parte dei telespettatori di Canale 5 Ettari espresso un parere su questa coppia Assistendo alla prima puntata della quinta edizione delle reality, in tanti si sono accorti che tra il cavaliere e la dama di Uedi Over ci sono molte incomprensioni, la gelosia della Platano, poi, sembra minare pericolosamente il rapporto nato pochi mesi fa davanti alle teletane A far crescere i sospetti su un eventuale addio tra Guarnieri e la sua dolce metà al termine delle registrazioni del programma, è stato un gesto fatto da entrambi sui social network non appena sono tornati in possesso dei rispettivi cellulari Come hanno raccontato tutti i siti di gossip in questi giorni, Ida e Riccardo hanno smesso di seguirsi su Instagram quando sono rientrati dalla Sardegna, dove hanno trascorso 21 giorni in due villaggi diversi in compagnia di bellissimi ragazzi barra e single Anche il conduttore Filippo Bisciglia ha commentato l'allontanamento che c'è stato sul web tra due protagonisti della reality, commentando, il regolamento vieta che le coppie pubblichino qualcosa sui social o che facciano capire com'è andata a finire Se hanno davvero fatto questo, hanno sbagliato. Se Ida e Riccardo appaiono sempre più lontani, il loro antagonista Sossio sembra aver finalmente trovato l'anima geniale, come dimostrano le tante dediche che a Ruta e Ursula Bernardo si fanno su Instagram in queste settimane, la frequentazione procede a gonfie vele anche dopo lo spegnimento dei riflettori di Canale 5 su di loro .